Nell'ultimo anno la lista dei morti per incidenti stradali ha visto un'impennata senza precedenti. Con il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la riforma del codice della strada, varati dal Consiglio dei Ministri, arriva una stretta contro la guida pericolosa. Per chi si fa distrarre dal cellulare o passa con il rosso, previsto il ritiro della patente da 15 giorni a due mesi e sanzioni fino a 1.700 euro. Si inaspriscono anche le misure per chi si mette al volante sotto effetto di alcol o stupefacenti. Per i recidivi al collocco obbligatorio, dal pacchetto di norme, però restano fuori le regole finalizzate alla prevenzione degli incidenti, previste invece da una interessante proposta di legge regionale. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, per cui questo è già un dato enorme con cui dobbiamo avere a che fare. Il governo sta inasprendo molte misure sul codice della strada e questo ovviamente mi trova favorevole, mi trova d'accordo. Il timore è che non bastano gli inasprimenti in riferimento ad aumenti di sanzioni, di ammende, a ritirare la patente, ma abbiamo bisogno oltre a questo anche di un impatto culturale, educativo, soprattutto nelle scuole, soprattutto nel promuovere i corsi di guida sicura, che possano aiutare i nostri giovani a guidare in maniera responsabile, perché ogni volta che si è alla guida è come diciamo avere a che fare con una pistola carica, puoi farti del male e puoi fare del male, ecco perché è importante avere una esatta consapevolezza. E poi anche promuovere assieme alle associazioni dei familiari delle vittime, assieme all'associazione della polizia stradale, dei seminari all'interno delle scuole è un elemento molto importante e il coinvolgimento anche delle amministrazioni comunali per favorire tutti quei locali, penso a discoteche, penso a bar, che possono in qualche maniera anche favorire l'uso di taxi collettivi per la sera riportare a casa coloro che non sono in grado di guidare. Ecco, sono tutta una serie di misure, sono misure che altri paesi europei hanno adottato da tanto tempo e con un'azione costante, con un'azione disciplinata noi possiamo ottenere dei risultati importanti, perché il livello dei morti è assolutamente intollerabile.